L'educazione nelle scuole Waldorf Steiner in relazione allo sviluppo del bambino, del giovane e il suo riflesso nella vita. È stato il tema della conferenza promossa a Palazzo Lascaris dall'Associazione Sostenitore della Scuola Rudolf Steiner di Torino. Tra i cardini di questo sistema educativo, lo sviluppo della volontà e della sfera emotiva, strumenti indispensabili per una nuova cultura, con al centro l'interesse e l'amore per l'altro.